Cari fratelli e sorelle, chi sono i cristiani? È possibile chiudere in una frase, in una formula, l'essenza del nostro cammino, della nostra fede? Perché? Mi sembra che nel Vangelo di oggi ci sia una risposta a queste domande. Quando Gesù dice ai Suoi discepoli, vi farò diventare pescatori di uomini. La frase con cui il Signore chiama i Suoi primi discepoli è anche una frase che definisce il ruolo di tutti i cristiani nel mondo. E non solo il ruolo dei sacerdoti, dei religiosi, delle religiose, ma ogni discepolo di Gesù. Questo modo di invocare, questo modo dell'incontro personale con Gesù è molto significativo, è molto importante per tutti di noi cristiani. Carissimi, perché questo è importante? La maggior parte dell'umanità, soprattutto l'umanità di oggi, sono gli abitanti del fondo. Diciamo di fondo di tutti i tipi. Di fondo dei peccati, disgrazie, solitudine, dolore o disperazione, specialmente oggi durante la pandemia. E' difficile per noi trovare la felicità, l'equilibrio e la gioia. La vita spesso assume queste forme terribili che vivono sul fondo di un lago o di un mare. Sì, carissimi, sul fondo c'è la vita, ma molto spesso senza la luce. La vita che non è la vita stabile, è una vita deformata, triste, come se fosse il deserto. Abbastanza guardare i film che ci mostrano vita sul fondo del mare, per esempio, dove abitano questi mostri, oppure queste pianti molto poveri, senza luce. Spesso c'è anche molto limo sul fondo, molte fango, tanta fango, dal quale è difficile scavare e uscire da solo. Quindi gli abitanti del fondo di solito sono bloccati lì, senza alcuna speranza di uscire. E questo è il motivo per cui nel mondo c'è un grande bisogno dei pescatori, che lasciano le città, i porti e le spiagge, ovviamente molto tranquille, molto spesso belle e sicuri. Possiamo anche divertirsi sul bella spiaggia, no? Ma il mondo ha bisogno oggi di pescatori che affronteranno le onde, il vento, per gettare le retti negli abissi e per tirare fuori tutti quelli che vivono nell'oscurità e nel fango, nel fondo. Seduto al sole sulla riva e dicendo che esiste buio senza la speranza, che esiste il fondo, che esiste il fango, che esiste il limo sul fondo, senza la speranza, e che non si può vivere lì, niente aiuta carissimi. Dobbiamo uscire come gli apostoli, con gioia, nella speranza, seguendo Gesù, diventando discepolo di Gesù, avendo la relazione con il nostro Signore, guardando i Suoi occhi. Questi abissi, i mari soprattutto, carissimi, e i laghi, e i mari, non sono lontani. I paesi pagani, o i gruppi di persone che è peccaminose, che vivono lontano da Dio, anche questi ovviamente devono essere curati. c'è un grande bisogno di pescatori che partiranno per una pesca lontana, pericolosa, no? Ma le attività di pescare, di un pescatore, più importante di solito, è proprio accanto a noi, delle nostre famiglie, tra i nostri amici, al pollo, al posto delle nostre vite, della nostra vita, quando siamo vicini. Carissimi, esiste un pericolo, perché quando siamo vicini non pensiamo completamente a ciò che Gesù dice a fare ciascuno di noi, perché ci ha chiamati ad essere pescatori di uomini, ma di tutti uomini, e non quelli uomini che sono oggi a distanza, che vivono al fine il mondo, ma gli uomini che ogni giorno li tocchi, che guardi il loro viso, che parli con loro. e questo, carissimi, è molto importante. Dobbiamo alzarsi per andare adesso, subito, come gli apostoli, e non dobbiamo avere paura mai. E non possiamo aspettare, ma dobbiamo uscire subito come gli apostoli, perché noi possiamo aspettare tutta la nostra vita per un momento più migliore, per le condizioni, qualcosa da migliore. E sempre possiamo rimanere in un posto senza alcun movimento. Possiamo sempre rimandare le cose più importanti, le cose più belli per dopo, ma in questo modo possiamo rimanere tutta la nostra vita in un punto, in un punto senza movimento, che si chiama lo Spirito Santo nella nostra vita, che ci indica la vita eterna. Questo, carissimi, è molto importante. Possiamo vivere in modo tale che non sentiamo Gesù, che ogni giorno ci parla come dice oggi nella prima lettura San Paolo, che Dio parla e ha parlato ai nostri padri attraverso i profeti molte volte e in modi diversi, ma in questi ultimi giorni ha parlato tramite il suo figlio, ma noi possiamo vivere in modo tale da non sentirlo. gli apostoli li ascoltavano con attenzione, erano sporchi di lavoro, stanchi, non era il momento migliore per ascoltare la parola di Dio, ma Gesù ha detto una parola, venite con me. è molto importante e loro hanno preso decisione di andare. Carissimi, dobbiamo oggi prendere decisione di andare, di diventare i veri discepoli di Dio, cioè pescatori in questo mondo che ha bisogno dei nostri mani, che ha bisogno dei nostri occhi, che ha bisogno della nostra bocca per proclamare con nostra testimonianza di amore di Dio, ma soltanto possiamo testimoniarla essendo nel profonda relazione con il nostro Signore. E questo vi auguro con tutto il mio cuore. Amen.